Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre e come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, al link trovate qui sotto in descrizione. Sì! E andiamo! La notizia che tutti noi aspettavamo da questa estate è arrivata, ragazzi. Finalmente Spider-Man è tornato ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe. Dopo mesi di punzecchiamenti e di lotte tra Sony e Disney, le due aziende hanno raggiunto un nuovo accordo. E quindi Spider-Man torna ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe. E la data di Spider-Man 3 è già stata confermata e fissata per il 16 luglio 2021. Secondo alcuni insiders, il nuovo accordo tra Sony e Disney prevederà che Marvel Studios incassino il 25% dei guadagni. Contro il 5% solo nel primo giorno di uscita del precedente accordo. In cambio di tutto questo, Kevin Feige produrrà il film al fianco di Amy Pascal. E le pellicole per ora fissate sono ben due. Spider-Man 3, che come ho detto in precedenza, uscirà il 16 luglio 2021. E un nuovo film targato Marvel. Di quel momento non si sa se sarà uno Spider-Man 4 o un nuovo film corale come Capitano America Civil War, Avengers Infinity War ed Avengers Endgame che hanno visto la presenza di Spidey. Per quanto riguarda invece gli accordi sul merchandising, rimarranno invariati e l'incasso andrà nella sua totalità a Disney e Marvel Studios. Kevin Feige tra l'altro ha già commentato la notizia e volevo leggervi le sue parole perché sono veramente interessanti. Sono contento ed elettrizzato che il viaggio di Spidey nel Marvel Cinematic Universe continuerà. E tutti noi ai Marvel Studios siamo davvero entusiasti del fatto che continueremo a lavorare sul personaggio. Spider-Man è un'icona potente ed un eroe la cui storia attraversa tutte le generazioni e gli spettatori del mondo. Si tratta inoltre dell'unico eroe con il superpotere di attraversare universi cinematografici. Sony continuerà a sviluppare il proprio Spider-Verse e voi non avete idea di cosa potrà riservarvi il futuro. Quindi ragazzi non so voi ma le parole di Feige mi fanno presagire il fatto che molto probabilmente vedremo Spider-Man anche nei film dello Spider-Verse. Kevin Feige ha detto direttamente al superpotere di attraversare universi cinematografici. Quindi secondo me ci possiamo aspettare tranquillamente un cameo di Tom Holland nel prossimo Venom 2. La cosa che però mi fa salire ancora di più la curiosità è questo misterioso quarto film targato Marvel. Sarà un film solitario di Spider-Man magari con i Sinistri 6? O un nuovo Avengers o un nuovo film di gruppo dove rivedremo Spider-Man? Fatemi sapere la vostra con un commentino qui sotto perché sono curioso di sapere cosa ne pensate. Quindi ragazzi non so voi ma io sono stra 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 felice della notizia. Se ne parlerà ancora per parecchio nei prossimi video ci saranno sicuramente altri aggiornamenti ma per ora possiamo accontentarci così. Spider-Man è di nuovo del Marvel Cinematic Universe e non possiamo far altro che festeggiare. Ho già letto in molte che dicevano che sia me era scontato che sarebbe finito a taralluce vino. Io non ci avrei messo la mano sul fuoco soprattutto dopo le ultime dichiarazioni. Ragazzi non so cos'altro dirvi sicuramente se ne parlerà ancora perché a questo punto mi aspetto anche l'ufficialità di Spider-Man all'interno di Venom 2 perché Feige per me è stato palesemente chiaro a riguardo. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutto ciò con un commentino qui sotto. Se siete contenti, se siete felici, se invece c'è qualcuno che preferiva che Spider rimanesse da Sony per i fatti suoi fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Io lo sapevo che la Marvel non poteva far concludere tutto dopo il finale di Far From Home. Non mi fregavate. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qui sotto. Lasciate un mi piace al video ovviamente per esaltare la felicità del momento e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!